Ciao Steline, bentornati sul canale. Oggi ci siamo io e Justin ad aprire il regalo. È la tua prima volta? Oh, ce n'è solo uno. Dai, aprilo te. Ok. Oh, racchette da tennis con la pallina. Ok, carino. Iscriviti al canale e lasciate like, vabbè, attivate anche la campanella. Buona visione. Bene, mi sono truccata e pettinata. Devo solo prendere in bagno. Vediamo, c'è qualcosa di interessante. Vediamo se qualcuno ha pubblicato. Vediamo Jacopo se ha ancora pubblicato qualcosa su Instagram. Niente. Account suggeriti. Ok, vediamo. Questa, cioè, Maya. Una ragazza con i capelli verdi e azzurri. Carina. Vediamo un po' cosa ha postato. Cosa? Ma questa è una foto di lei e Jacopo ieri allo skate park? Ma, ma non è possibile. Mi ha detto che era un impegno urgente. Quindi non è da solo, eh. È con un'altra, vabbè. Potrebbe anche essere solo un'amica, ma mi ha mentito. E in più non è venuto a casa mia. Uffa, adesso gliene dico quattro. Chi può essere adesso? Pronto? Jacopo, come ti sei permesso? Oh, Rebecca, buongiorno. Calma, che succede? Sì, come se non lo sapessi. Ho visto il profilo di Maya. Ho visto che ieri sei nato allo skate park con lei invece di venire a casa mia e i miei amici. Cosa? Maya ha pubblicato una foto di noi. Oh no, ero sotto attento a non farlo io. Cosa hai detto? Eh, no, mi dispiace, scusa. Lei mi aveva detto che era una cosa importante e non mi aveva detto dovevi portarmi. E a proposito, lei chi è? È una mia amica. Sì, perché non me l'hai detto? Ma non lo so, non volevo farti arrabbiare. Poi boh, non ci vediamo neanche tanto, non pensavo ti interessasse. Come non mi interessa? Sono la tua ragazza, io lo devo sapere. Allora, perché mi hai mentito? Potevi almeno dirmelo. Ma ti saresti arrabbiata. Sì, ma l'avrei apprezzato di più che aver mentito e scoprirlo dall'account Instagram di un'altra. Quindi è per questo che ultimamente non ci vediamo tanto? E perché devi uscire con lei? No, no, l'ultima volta stavi male. In settimana non posso perché devo studiare e fare i compiti, lo sai. Anche te non puoi per quello. Mi hai delusa tantissimo. Ieri ti ho sempre pensato con i nostri amici. Che peccato che non viene. Volevo persino abbandonare, non fare niente. Ti ho detto, vabbè, dai, per i miei amici, lo faccio. Mi hai delusa tantissimo. No, aspetta, ti giuro che c'è una spiegazione. Sì, certo, ora devo andare a scuola. Ciao. È stato davvero una delusione. Da lui non me lo sarei mai aspettato. Topo, alla scuola di Radecca? Sì, quella canzone è molto bella. Ce ne sono diverse versioni, però mi è entrata in testa talmente volte, tante volte la sento su TikTok. Anche io non ne posso più di sentire quella ridicola canzone. No, dai, però è bella. Magari faremo un TikTok io e Chloe o io e Rebecca, perché adesso Chloe è la con Ellie, quindi non posso. Ciao, ragazzi. Ciao, Rebecca. Rebecca, ehi, ma che cos'hai? Cos'è quella faccia? Ah, si tratta di quel bugiardo di Jacopo. Sapete perché ieri non è venuto? No, perché è andato allo skate park con una certa Maya. Oh, e tu come fai a saperlo? L'ho visto dall'account Instagram di Maya, ma vi rendete conto? Lui mi ha mentito e a quanto pare ha solo lei come amica. Beh, se sono solo amici, qual è il problema? Il problema è che mi ha mentito e mi ha deluso, non me l'aspettavo da lui. Mi dispiace, ma vedrei che se parlate si risolverà tutto. Sì, infatti, parlatene e si risolverà tutto. Ok, ma dopo un po', per il momento non lo voglio sentire. Dai, andiamo in classe. Mi dispiace per Rebecca, spero che si risolverà tutto tra lei e Jacopo. Intanto nella scuola di Jacopo? No, uffa, non saprò niente per questa verifica. Maia? Ciao Jacopo, dimmi. Come ti sei permessa di pubblicare una foto di noi ieri su Instagram, senza chiedermi il permesso? Oh, scusami, è che me ne sono ricordata a casa che l'avevo fatta e mi sono dimenticata di chiederti il permesso. Perché? Qual è il problema? Il problema è che la mia ragazza l'ha vista e si è arrabbiata che le ho mentito, che sono andata con te invece che andare a casa sua con i nostri amici e che io non gli avevo neanche detto che avevo una vita come te, gli ho detto che ero da solo. Oh, capisco. Ti vergogni di me? Va bene, ok. Scusami, cancellerò la foto. Tutto chiaro. Non è che mi vergogni di te, che mi hai messo nei guai, uffa! Anche se te ne sei ricordata a casa, perché non mi hai chiesto il permesso? Ti ho detto che la cancellerò, basta. Forse è un po' esagerato, mi sembrava offesa. Ma doveva chiedermi per me, su, adesso Rebecca è arrabbiata con me e a quanto pare anche Maya. Ma è più importante rimediare con Rebecca, poi per Maya c'è tempo. Alla fine delle lezioni nella scuola di Rebecca? Vieni, andiamo dall'altra parte. Sì, così non ci sono quelli a darci fastidio. Andiamo. Beh, noi dobbiamo andare di qua. Ci vediamo domani, ragazzi. Ciao. Andiamo. Noi siamo di qui. Andiamo insieme? Sì, va bene. Allora, noi due è un po' che non usciamo al pomeriggio. Sei sempre impegnata? Oh sì, è che ultimamente il mio gatto non è stato tanto bene, ho dovuto portarlo dal veterinario. Poi, sai, in questo periodo ci sono tante verifiche e compiti. Ah beh, sì, in effetti noi, non essendo in classe insieme, abbiamo compiti diversi. Vabbè, andiamo a casa a mangiare, se no mia mamma mi sgrida. Ok. Ehi, aspettami, cos'è tutta questa fretta? Voglio solo andare a casa il primo possibile. Beh, dai, ti ho accompagnata, chiacchieriamo un po'. So già che mi vuoi parlare di Jacopo e non ne ho voglia. Beh, ma volevo solo che faceste pace, mi dispiace vederti così. Sei una cara amica per me, è l'unica che si interessa davvero a me. I tuoi amici, sì, mi sembrano simpatici, ma Chloe non c'è sempre e Greg non mi sembra molto interessato a stare con me. Oh, sinceramente non ci avevo fatto caso, scusa, ma in questo periodo penso ad altro e sì, Greg e Chloe non si ridono molto degli altri, ci vuole un po' di tempo e... Però, Roberto e... ed Elisa, sì, sono simpatici, siete amici. Sì, infatti, con loro mi trovo bene. Comunque, ora andiamo a casa, dai. Sì, in effetti ho fame. L'episodio finisce qui, iscrivetevi al canale, lasciate like al video e attivate la campanella. Cosa ne pensate che Mai ha pubblicato una foto senza chiedere il permesso? Jacopo ha fatto bene a mentire o male? E Rebecca, a reggere così, ha fatto bene o male? Non perdetevi il prossimo episodio, ciao!